va bene è pericoloso signore lo so va pure non sono uno sciocco pliskin chiama migliana sd pliskin americano tenente unità speciale di combattimento luce nera due decorazioni leningrado in siberia il più giovane ufficiale decorato dal presidente rapina alla sede della banca federale ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di new york sono pronto a toglierti dal mondo a calcio in culo decorato chi sei tu hawk alto commissario boba o unità speciale di combattimento tuono anche noi ti conoscevamo che parliamo a fare ho un affare per te ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli stati uniti c'è stato un incidente circa un'ora fa un piccolo oggetto è precipitato nel centro di new york c'era a bordo il presidente presidente di che questa non è spiritosa tu entri la trovi il presidente lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero 24 ore ti sto facendo un'offerta balle attendibile e onesta ci voglio pensare non c'è tempo la risposta fate un nuovo presidente siamo ancora in guerra pliskin ci occorre vivo non mi importa un cazzo della vostra guerra o del presidente è questa la risposta ci sto riflettendo rifletti bene perché io volasti col galf air a leningrado sai calarti su una città inosservato visto che andrò la in un modo o nell'altro non mi frega come dammi quel perdono quando ritorni no prima ripeto non sono uno sciocco pliskin chiama migliena qualcuno di loro alla macchina vecchi 14 convertiti a vapore pare abbiano anche qualche riserva di benzina e un po di elettricità per le serre usano generatori ravverciati qualche zona ancora i lampioni e poi ci sono i pazzi che vivono nella sotterranea hanno il controllo assoluto del sottosuolo predatori notturni il tracciatore trasmette un radio segnale per 15 minuti se lo premi noi ti vedremo sul radar è lo stesso di leningrado con l'aggiunta di qualche rifinitura l'aggiunta di qualche rifinitura